Il ritorno di Terra Gobbo aveva finito di eseguire i suoi script in un programma gioco di un dodicenne e stava tornando alla master library degli sprite. Come al solito, si perse nell'immensa Scratch Cloud e girovagava tra database, areeutenti, librerie di sistema, tra l'altro senza avere alcuna autorizzazione. Non lo faceva di proposito. Gobbo era fatto così, distratto e con poca memoria. Ad un tratto si ritrovò sopra la sconfinata area dei programmi utenti, il luogo più eccitante di tutta la Scratch Cloud. Gli sprite potevano entrarci solo su richiesta e sotto il controllo di un coder, ma Gobbo fece finta di dimenticarsene e decise di fare un giro. C'era un fermento incredibile, come sempre. Giochi, simulazioni, disegni che prendevano forma, dialoghi in svariate lingue, milioni di sprite che andavano e venivano da tutte le parti per animare le griglie dei creativi e milioni di script in esecuzione. In quel fermento digitale era facile notare la mancanza di attività e Gobbo fu attratto da un'area particolarmente statica alla sua destra. Si avvicinò e vide la sua amica Terra, immobile sul classico fondale bianco, caricata dentro un programma dal poco significativo nome di Untitled 8. Attraverso il flusso di comunicazione spretonico, Gobbo captò lo stato di soddisfazione di Terra e vide che era particolarmente basso. Ehi, Terra, cosa c'è che non va? Non lo vedi? Mi sto annoiando da morire. Sono rinchiusa in questo inutile programma, senza uno straccio di codici da eseguire, niente spondi, niente costumi, nessun altro sprite con cui parlare. A proposito, ma tu che ci fai qui? Niente. Sto tornando alla Master Library e... Sai com'è? Sto facendo un giretto. Beato te, non hai idea da quante unità temporali sono qui a non far nulla. Lo sai che non sopporto stare ferma senza eseguire nessun codice. Non dico tanto. Non pretendo uno script con centinaia di blocchi, ma almeno un fai dieci passi, attendi un secondo, gira di novanta gradi da ripetere quattro volte o un semplice scivola in un secondo a x100 y100. E invece niente di niente, la mia scriptarea è completamente vuota. Ti capisco, però lo sai bene Terra, può succedere. Non tutti i coders sono efficienti. Anzi, alcuni sono dei veri scansafatiche. Già, ma perché quelli devono capitare a me? È la legge del caos, del caso. Noi non possiamo... Uffa, ora non farmi una lezione sulla distribuzione delle probabilità. Oh no, non so nemmeno cosa sia. Comunque, volevo dire che devi prenderla con filosofia e goderti il riposo. Riposo? Se fosse per me, mi scriverei uno script con un blocco per sempre. Pieno zeppo di blocchi, fai numero passi, vai a xy, scivola in un secondo a xy. Eh, però non puoi, perché sei uno sprite e non un coder. Quindi, che fai? Se ne fossi capace, mi metterai a piangere. Piangere? Non lo sai? È quella cosa che fanno gli umani quando sono molto tristi. Fanno uscire del liquido dagli occhi che poi gli cola sulla faccia. Mai sentito. E come fanno a far uscire l'acqua dagli occhi? E io che ne so. E poi, chi ha detto che sia acqua, o detto liquido, potrebbe essere... Ah, che stupido! Lo so io come fanno. Gli umani sono dei coders, quindi avranno scritto un pezzo di codice per riuscire a piangere. Mi piacerebbe vedere come è fatto lo script. Sì, è vero. Sei veramente stupido. Mica crederai che gli umani funzionino come noi, che eseguano gli script come facciamo noi. E perché no? Boh, non lo so. Ma se funzionassero come noi, saremo in grado di comunicare con loro. E io potrei dire al mio coder di farmi fare qualcosa. Già, potresti dirgli di farti piangere. Però poi ti serve il costume triste. Tu ce l'hai? Io no, nessuno me l'ha mai fatto. Anzi, a dire il vero non so nemmeno cosa sia triste. È quando il livello di soddisfazione è minore di 5. E comunque io ce l'ho il costume triste. Beh, visto che è il tuo livello di soddisfazione, dovresti fare passa al costume triste. Ma solo il tuo coder può farlo. Adesso però vado, devo ritrovare la strada per rientrare nella library. Se il check sprite controller si accorge che non ci sono, è un guaio serio per me. Aspetta, Gobo. Forse accade qualcosa. Il mio coder è entrato in Untitled 8 e maneggia nel pannello degli sprite. Se sono fortunata ne carica un altro e mi cancella dal suo progetto. Sì, ora ha caricato Bat 1. Forza, cancellami. Dai, cancellami. Cancellami. Ecco, ha preso la forbice. È sopra di me. Sì, sì, sì. Evviva, mi ha cancellato. Finalmente sono fuori da quel ridicolo Untitled 8. Coders di tutta la cloud. Terra sta tornando. Vieni, Gobo. Ti riporto nella master library in un picco secondo. Wow, Terra, il tuo livello di soddisfazione è schizzato sopra i 100. Non vedo l'ora di ritornare a seguire script.